L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha dato il via alla regione Liguria in merito all'abbattimento dei cinghiari catturati in un contesto urbano nel caso in cui non si possa prevedere una rimozione del problema in modo incruento. Secondo l'Istituto, infatti, se gli ungulati venissero reimmessi in natura, vista la loro intelligenza, tornerebbero subito nel contesto urbano e il problema dunque si ripresenterebbe. La notizia è stata ufficializzata in Consiglio regionale dall'assessore all'agricoltura Stefano Mai, che ha così risposto a un'interrogazione avanzata dal consigliere Marco De Ferrari del Movimento 5 Stelle. Mai ha evidenziato che effettivamente la regione, in collaborazione con l'Università di Genova, con l'impiego di microchip posti sui cinghiali, ha potuto verificare che gli animali catturati in contesto urbano e liberati nell'entroterra tendevano tutti a tornare in un ambito cittadino. Il consigliere De Ferrari ha voluto evidenziare che l'abbattimento deve essere l'estrema razio e non l'unica soluzione, suggerendo di creare delle aree di custodia per gli ungulati catturati e avviare, almeno nelle zone dove il problema è maggiore, un processo di sterilizzazione degli animali.